Era stato il 19 marzo scorso il capogruppo in consiglio comunale di Arezzo per Fratelli d'Italia, Francesco Palazzini, a chiamare in causa la proprietà con una dichiarazione che avrebbe avuto lo scopo di spronare la ARSPA a mettere in sicurezza l'area ex lebole, già teatro nei giorni scorsi di un episodio di cronaca che ha visto il ferimento di un uomo. Un'area spesso attenzionata in questi ultimi anni e che ha visto in queste ore un nuovo botta e risposta a distanza. Da una parte la ARSPA di Marco Carrara che con un comunicato stampa si dichiara stupita dalle dichiarazioni di Palazzini e rispedisce al mittente le accuse. In pratica viene evidenziato come il degrado e l'incuria di questi ultimi sette anni, periodo nel quale l'area è divenuta a causa dell'abbandono fruibile da chiunque, possa essere responsabilità del comune annunciando di sottoporre nel prossimo futuro considerazioni alla cittadinanza su quanto accaduto nella recente passato. Dall'altra il consigliere Palazzini non ha fatto attendere la sua replica accusando la proprietà di toni arroganti e minacciosi e annunciando un atto che sarà depositato in consiglio comunale nel quale si potrebbero delineare le condizioni per l'emissione di un'ordinanza sindacale che obblighi la proprietà alla risistemazione della recinzione dell'area rendendola inaccessibile a chiunque voglia entrare. Se la proprietà dichiara ancora Palazzini dovesse fare orecchie da mercante allora il comune potrebbe intervenire con i lavori che saranno a quel punto addebitati alla proprietà dell'area, appunto la RSPA.